Posizionati sulla sedia romana appoggiando gli avambracci sui pads e proiettando il busto leggermente all'indietro. Da questa posizione alta le gambe utilizzando gli addominali, non i flessori dell'anca che rimangono il più fermi possibile. Contrai fin tanto che il busto forma un angolo di 90 gradi con le gambe. Espira mantenendo la contrazione di picco, quindi ritorna alla posizione iniziale di allungamento. In questa versione avanzata puoi provare a tenere le gambe dritte.